Prendiamo la linea da Milano, momentaneamente credo perché c'è qualche livello d'audio da sistemare con la voce di Bruno Pizzul che ricordiamo si trova al Val Stadion di Francoforte, di scena Eintracht-Napoli, un Napoli imbattuto in Europa e che trova naturalmente in Germania anche il conforto del tifo di moltissimi appassionati che in quelle zone risiedono. Un confronto certamente molto delicato sulla strada di Napoli che in campionato ha avuto qualche problema, ci riferiamo alla sconfitta interna partita domenica scorsa contro la Fiorentina, ma che con Boscov sembrava aver ottenuto un buon assetto per quanto concerne la squadra. Fra i protagonisti della formazione tedesca ci dovrebbe essere, perché non abbiamo ovviamente la lista ufficiale delle formazioni ci dovrebbe essere anche Maurizio Gaudino, originario di Fratta Maggiore, quindi un giocatore che ha sangue partenopeo nelle vene. Naturalmente siamo sempre in attesa di sentire la voce di Bruno, chiara, limpida da Francoforte. Vedremo naturalmente anche di aggiornarvi per quanto riguarda le formazioni. Ricordiamo che l'arbitro della partita è una nostra vecchia conoscenza, vale a dire l'ungherese Sandor Poul, arbitrò tra l'altro ai recenti mondiali statunitensi Italia-Spagna e soprattutto la finale tra Italia e Brasile. Naturalmente chiediamo anche Lumi alla regia se c'è la possibilità, mentre vedete un'inquadratura riservata all'arbitro Poul, sta per comunque partire l'incontro. Napoli con la consueta tenuta azzurra, ci fanno cenno che dobbiamo continuare, quindi ancora qualche problema. Naturalmente vi chiediamo pazienza, ma siamo sicuri che fra poco ritornerete a sentire la voce squillante di Bruno Pizzul da Francoforte. Ancora qualche attimo prima della partenza. Allora siete collegati in via telefonica in attesa che vengano ripristinate le linee. Il calcio d'inizio non è ancora stato fischiato dall'arbitro Poul, che come vi ricordava Civoli è l'arbitro che ha diretto la finale tra Italia e Brasile agli ultimi mondiali degli Stati Uniti. Tutto è pronto per il calcio d'avvio, le condizioni ambientali sono diventate leggermente più difficili dopo un pomeriggio più che accettabile, piovuto proprio poco prima dell'inizio della partita. Vi do le formazioni delle squadre, c'è subito questa percussione da parte del Napoli con Bintz che sventa in fallo laterale. Vedete inquadrato Agostini, vi dicevo vi do le formazioni delle squadre. Il Napoli gioca con taglia alla tela, Cannavaro e Tarantino che quindi è stato recuperato, Bordin, Pari e Cruz, Buso, Bogossian, Agostini, Carbone e Pecchia. Intanto è ancora il Napoli in avanti, c'è l'intervento dell'arbitro Poul a sanzionare il calcio d'angolo a favore della formazione napoletana ed è Carbone che va subito alla battuta del tiro d'angolo. È una gara che il Napoli ha cominciato con grande determinazione, rinvio e ancora di Bintz indirizzato verso Yeboah che è stato fermato. Ancora un tocco di Yeboah che è sicuramente l'elemento più atteso nelle file dell'entrack di Francoforte è un attaccante ganese dall'età imprecisata. Qualcuno dice 30 anni, qualcuno molti di più, ma quel che conta è che segna raffica ripetizione. Ha vinto per due stagioni di fila il titolo di capo cantoniere nella Bundesliga tedesca. Un uomo dunque da tenere d'occhio in modo particolare, mentre ora l'azione è impostata da Weber che ha scambiato con Bindewald. Ancora Weber. Quindi il suggerimento da parte di Legat a chiamare in avanti ancora Weber, nuovamente Legat controlla un buon pallone, lo fa filtrare in profondità, tocco nuovamente verso Legat e poi c'è Okocha che tenta la penetrazione e viene ancora fermato. Primo piano per il giocatore Okocha nigeriano, lo ricorderete presente almeno per una certa parte del secondo tempo nella partita della Nigeria con la nazionale italiana USA 94. E Busor all'impostazione per il Napoli. Il tocco è per Carbone, il disimpegno è per Pecchia, si propone largo e riceve pari. In profondità cercare Agostini che sta attraversando un buon momento di forma. Attenta il tunnel, riesce a saltare un avversario, viene però poi intercettato. Il rinvio è di Bindewald e la palla è in fallo laterale. Vi ripeto che siete collegati in diretta con il Val Stadion di Francoforte sul meno. Problemi, audio, stiamo effettuando la cronaca con la linea telefonica mentre ora Gaudino è in possesso di palla. Ha scambiato con Dictaut e quindi sulla destra con Lienovic. Ha servito Bommer, cerca spazio e viene fermato da Tarantino. Nelle file del line track di Francoforte gioca anche con la maglia numero 8 Gaudino giocatore di chiara origine italiana, anzi proprio dell'Interland napoletano di Fratta Minore è un giocatore che ormai da parecchi anni gioca nelle varie squadre del campionato tedesco non ha mai nascosto le sue aspirazioni e ambizioni di venire a giocare in Italia. Intanto il gioco è fermo e c'è un calcio di punizione per Lientracht comandato dall'arbitro Poole. Il fondo del terreno è comunque in buone condizioni. Ha verticalizzato Legat, poi in copertura Pecchia. Ha dato a Bogossian buono il suggerimento per Carbone. Carbone fra due avversari guizza via sul tiro del pallo laterale. velocissimo Carbone, ottimo il suo inserimento. Il lancio verso Agostini intercettato ma aveva segnalato la posizione irregolare della punta napoletana. Il guardavine ha lasciato correre per il vantaggio Poole. Ed ecco la prima iniziativa da parte di Yeboah che è stato attaccato irregolarmente da Cannavaro, il suo ammarcatore. Rivediamo l'azione, vedete che Cannavaro si aiuta con le mani. Interviene subito Poole, l'arbitro ungherese. E questo è il primo piano per il giovane difensore del Napoli che ha un compito difficile stasera di marcare Yeboah ancora pericolosamente. In avanti il line track è proprio Yeboah tentato di farsi largo con molta esperienza e forza fisica in area di rigore. Che è andato a terra assieme a Cannavaro. Rivediamo. Ecco vedete l'iniziativa proprio di Gaudino. Tanto le immagini sono nuovamente in diretta e c'è questa traversone pericolosissima da parte di Legat. Con palla che taglia tutta l'area di rigore. Gara molto intensa in queste battute iniziali. L'impostazione è ora del Napoli carbone. Fermato. Il rinvio di Komlienovic. L'arresto di Kruz. La lunga ribattuta poi. Tanto qui stanno smanettando i tecnici. Con calma sta impostando Legat. Adatto all'indietro a Binz. Da questi sulla destra Komlienovic. E la palla è toccata in fallo laterale. Ancora un duello fra Pomer e Tarantino. E la palla che si spegne a fondo campo. Qui vedete la panchina dell'Eintracht di Francoforte. Juppenkes è il tecnico. A suo tempo giocatore del Borussia Dimension Gladbach della nazionale tedesca. Molta esperienza come tecnico di parecchie squadre della Bundesliga tedesca. Mentre sulla panchina del Napoli c'è Boscov. Gli ha rilevato Guerini. Intanto c'è ancora questa buona iniziativa. Con Bogossian da parte del Napoli. Ha messo in movimento Pecchia. Cerca spazio. Serve ora Carbone. Ancora all'indietro a beneficio di Cruz. Insiste comunque il Napoli. Ma intercetta Legatte. Parte il contrattacco del Francoforte. Occocia. Tenta il lancio in profondità. Ma è stato intercettato da Pari. Che poi vede libero dalla parte opposta. Carbone. Anticipato. Ancora Komlienovic. Ecco Ieboa in azione. Lo bracca da vicino. Tarantino. E la palla è in pallo laterale. Adesso provo a entrare sulla Cuccia. Sono in Puglia. Vorrei che qualcuno mi dicesse se arriva regolarmente ora l'audio. Sì, sì, arriva. Ok. Non ricevo comunicazioni di ritorno. Ok Bruno, ti arriva. Ti arriva. Calcio d'angolo a favore dell'Eintracht di Francoforte. Mi pare di avere capito che ora le cose funzionano a parte. Questo traversone. E la palla è ancora messa da Cruz in calcio d'angolo. Partute iniziali molto intense di questa partita tra Eintracht e Napoli. Con Napoli che è alle prese con una sempre difficile situazione societaria. Parte il nuovo tiro dalla bandierina. Esce, taglia la tela. La tocca con un pugno ed è Pari il più pronto a portarsi sul pallone. Le informazioni sono state comunicate all'ultimissimo momento. Le abbiamo anticiprate attraverso l'altoparlante. C'è questo tocco all'indietro da parte di Big Town al portiere che è fatto il lunghissimo rilancio. Il colpo di testa di Yeboah. Con calma. I difensori del Napoli poco sti anni in azione. Ora il lancio a cercare ancora Carbone. Buon lavoro di Carbone. Sulla fascia parte il suo traversone. Da quest'altra parte il pallone tenuto in campo da Agostini. Non prova però un compagno e ripartono i giocatori della Eintracht in maglia rossa con Legat. Parte il lancio profondo. A cercare l'inserimento proprio di Gaudino che ha scambiato con Ococia. Il nigeriano converge. Chiama l'inserimento Binz, il difensore centrale. Palla ribattuta. Ne va la caccia Carbone contrastato in qualche modo da Binz. Quindi il passaggio è su Legat. Da questi ancora a Binz. Largo per Bomber. Binz, Legat. Più non va bene i giocatori del Napoli Corridoi. Ancora Binz con questo lancio su Weber. Fa filtrare il pallone nuovamente su Gaudino che è stato fermato. Gaudino ha un rapporto personale piuttosto difficile con il tecnico Heinckes. che lo ha lasciato spesso fuori squadra. Il light run di Francoforte è in una posizione di classifica non particolarmente brillante. All'undicesimo posto. Ma osserviamo gli sviluppi di questa azione del Napoli. La posizione fuori gioco di Agostini è piuttosto netta. 10 minuti e 20 di gioco. Mentre vedete Vujadin e Boskov in piedi a dare le sue indicazioni. Intanto non piove più. Sono presenti circa 60.000 spettatori. Praticamente il tutto esaurito al Valde Stadium. La solita calorosa presenza di nostri connazionali. Che sempre accorrono quando da queste parti gioca una formazione italiana. ma molti sono arrivati anche da Napoli direttamente. Intanto è il Biondo Pins che sta impostando. Legat. Avanza Legat. Prova il sinistro. La conclusione è alta. C'è da dire che Boskov ha ripescato a sorpresa Tarantino che sembrava indisponibile e con il suo recupero ha dato un aspetto particolarmente forte alla retroguardia. Come già abbiamo avuto modo di sottolineare. Il Napoli viene dalla sconfitta interna numericamente pesante subita dalla Fiorentina. Ma proprio in occasione della gara con i Viola il Napoli è riuscito a sciorinare una prestazione notevolissima. Intanto è Legat che effettua il lancio dalla parte opposta mettendo in movimento Bommer. Avanza Bommer. Largo ancora per Legat. Il quale mette in movimento Gaudino in posizione di A alla sinistra. Parte il cross di Gaudino. La palla è sfiorata. C'è il tentativo di anticipo da parte di Yeboa. Poi la palla viene scaraventata in pallo laterale. Vedete il primo piano di Yeboa. Mentre ora è Weber in azione. Ancora Gaudino fa filtrare un buon pallone a beneficio di Legat. Parte il cross taglia la tela e attento. 12 minuti nel corso del primo tempo. Risultato di 0 a 0. Vi ripeto che siete collegati in diretta con il Val Stadium di Francoforte sul meno in Germania. Mentre rivediamo la precedente iniziativa dei tedeschi con il cross di Legat e la sicura presa. Si taglia la tela. Ancora un lancio effettuato da Weber verso Legat con la palla che termina in fallo laterale. Questi Legat anche Enkes ha portato alcune modifiche alla formazione. Non gioca il polacco Furtok. Ed è stato inserito Pindeval da sorpresa. Al posto di Roth. Mentre vedete che riprende a piovere. Spiora la palla Yeboa. In copertura Pecchia. Ancora Pecchia in azione. Il suo esterno buono a favorire Cannavaro. Quindi il Napoli prova a venire in avanti. Un po' l'interazione di Bogostian che si è fatto anticipare. Ed è proprio Gaudino che recupera. Effettuando il suggerimento su Dick Taut. Va Dick Taut a effettuare il cross. La respinta è di pari. E poi c'è un intervento irregolare da parte di Gaudino su Buso. Con il conseguente calcio di punizione. Rivediamo l'irregolarità. Ritmo molto intenso. Tanto vedete che l'arbitro Poole va a richiamare Kruz. Che aveva ritardato l'effettuazione del tiro del calcio di punizione. Buon anticipo di Bims. Poi è intervenuto Bordin in maniera irregolare spingendo alle spalle l'avversario. Ecco il motivo del calcio di punizione fiscato dall'arbitro ungherese. Molto attivo sulla fascia sinistra. Legati il giocatore che vedete in azione. Ha disimpegnato a favore di Pins. Uno dei due difensori centrali. Il tracoporte gioco con il 4-4-2. C'è questo contrattacco da parte del Napoli con Carbone. Carbone effettua il lancio in profondità su Agostini. Due avversari su di lui. Tenta di rimettere in mezzo. La chiusura è stata di Bomber. Ancora Bomber. Ma è buono il pressing dei napoletani anche se l'azione di Pecchia viene giudicata fallosa. Legat. Weber. Lo scambio fra Dick Taut e Bims, i due centrali. L'inserimento di Bindevalta. Ancora Bims. Dick Taut. Dritto per dritto in profondità intercettano i giocatori del Napoli. Riparte Buso. Dentro e c'è la palla intercettata. Una volta ancora il guardaline ha alzato la bandiera. L'arbitro non è intervenuto. Intanto c'è questo lungo pallone che sfila direttamente in pallo laterale. Un'arbitro di Bogo Stian. Intercettato il tentativo di lancio del francese Gaudino. Ococcià. Un'ambolico parte il lancio pericoloso. Buona la copertura di Cannavaro. Ora Tarantino. Fermato. Ma insiste il Napoli. Disimpegno è per taglia la tela da parte di Pari. Il lungo rinvio del portiere. Il colpo di testa di Komlienovic. La palla per Agostini che la tocca per altro male. Poi Weber al rinvio. Pronto alla respinta del Napoli. E c'è questo colpo di testa poi di Cannavaro. Tarantino. Palla troppo lunga per Carbone. Con l'agitatissimo Vuzatin-Boskov che dà indicazione. Ancora Bindevaldo. Ococcià. Fermato. Intervento di pull e calcio di punizione per il Napoli. Fallo di Ococcià. 17 minuti di gioco intanto nel corso del primo tempo. Il risultato è di 0 a 0. Gara sostanzialmente equilibrata. Appare più agile la manovra del Napoli. Più postente ma anche più lenta. Quella dell'high track di Franco Foppe. Di Cruz questa lunga battuta centrale. Il colpo di testa è di Bims. Pecchia. Di prima un buon pallone verso Tarantino. Tarantino va a effettuare il traversone. C'è il colpo di testa di Agostini. Alto. Buona comunque questa iniziativa del Napoli. Rivediamo l'inserimento di Tarantino. Il suo cross immediato. Sceglie bene il tempo per il salto Agostini. Poi però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Massimo Agostini. Il condor così conosciuto nel mondo del calcio. Sta attraversando un ottimo momento di forma. Ha segnato anche domenica scorsa due gol. Weber. In via di Buso. Tagliato però il passaggio di ritorno. Che finisce per favorire Legat. Va Legat a effettuare subito il cross. Troppo lungo. Ancora bene appostato Tarantino. Che appare in buone condizioni. Suggerimento per Carbone. Caracolla Carbone. Va al dribbling. Si sovrappone. Intanto Tarantino. Eccolo servito. Molto buona anche questa iniziativa del Napoli. E con Lienovic. Il difensore esterno destro dell'Altrax. Mette in fallo laterale. Rimessa effettuata a favore di Carbone. Già alcune giocate particolarmente brillanti. del giovane fantasista del Napoli. Mentre vediamo in azione Gaudino. Sul quale c'è la pronta copertura di Pecchia. Qui vedete la panchina del Napoli. A lungo. C'è stata incertezza sullo schieramento del Napoli. Poi Boscov avendo recuperato Tarantino. Lo ha mandato in campo. Legat per dare maggiore compattezza al pacchetto difensivo. L'iniziativa di Bomber. La palla per Occoccia. E la conclusione poi in corsa dello stesso Bomber che vedete inquadrato con Pallalda. Taglia la tela. Qui vediamo il triangolo tra Bomber e Occoccia. Il destro di Bomber sulla chiusura di Bordin e la palla alta. Il rinvio di Taglia la tela. Il centrocampo a Bogostian. Poi Legat. Quindi Gaudino dentro. Ferma a cruzzo. Ancora Gaudino. Gioca con grande animo Gaudino. Naturalmente ha delle motivazioni particolarissime. Il tocco intanto all'indietro di Weber a favore di Binz. a cercare ancora Bomber che gli ha restituito il pallone. Quindi Occoccia. Komlienovic. Bindewald. Avanza il centrocampista. Esterno a cercare nuovamente Gaudino. Bomber. Tocco centrale. Si sgancia Binz. Dada quest'altra parte a Weber. Su Weber. Prontissimo Buso. 21 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Risultato di 0-0 al Valstadium tra Eintracht e Napoli. Weber ancora. L'esterno di Legat. A far fintrare il pallone in contropiede del Napoli con Agostini in posizione a destra. Taglia centralmente cercando Carbone. Komlienovic è andato a chiudere facendo bene la diagonale di copertura difensiva. E riparte con Bomber. L'Eintracht. Ancora Komlienovic. In profondità. Ococia. C'è il cross con deviazione e calcio d'angolo sulla sinistra. Jupp Eingel. Passa per uno che non ama molto gli italiani. Ed è Gaudino che va a effettuare il tiro dalla bandierina per l'Eintracht di Francoforte. Colpo di testa di Bordin. Palla fuori per Dick Stout. Quindi Bomber. Legat. Si lotta con grande accanimento. Ci sono delle regolarità da una parte e dall'altra. Alla fine interviene l'arbitro Poole a comandare il calcio di punizione a favore dell'entracht di Francoforte. Ma vedete che ci sono le proteste dei giocatori del Napoli. C'era stata sicuramente una spinta anche ai danni di Pecchia. L'arbitro ungherese comunque ha fischiato e ha comandato il calcio di punizione. Vedete che protestano ancora i giocatori del Napoli. Pallaventura per Cannavaro. Sicuramente è uno dei giovani più promettenti. E c'è stata ammunizione per Cannavaro. Probabilmente per proteste ammunito Cannavaro. Cannavaro è stato ammunito nelle precedenti partite. Quindi non scatterà per lì la squalifica. Mentre c'è il tentativo di conclusione da parte di Legat. Ribattuto insiste con Bomber. L'Eintracht parte il cross. C'è il colpo di testa all'indietro di Ococcia. E Bogossian effettua questo lunghissimo lancio a cercare di cogliere in preparata la retroquartia di Francoforte. Ma Carbone è stato pescato in posizione irregolare. Ancora Bomber. Gioca con buona intensità anche se esprimendo un calcio piuttosto macchinoso. L'Eintracht di Francoforte è Gaudino ora che porta palla. Cambia con Bomber e gli restituisce il pallone. Da quest'altra parte è pronto Weber. Viene Weber. Combina con Legat. Tentativo di triangolo. E lo stesso Legat poi interviene su Pecchia con la palla che sfila a fondo campo. Siamo al ventiquattresimo del primo tempo. Al Valstadium di Francoforte. Eintracht e Napoli sono sullo 0-0. È la gara d'andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Hueta. Ed è Cruz ora che effettua il rinvio da fondo campo lunghissimo. Si coordina Buso. Sfiora bene di testa. Mette in movimento Agostini. Guizzo di Agostini. Poi lo ferma Bindevald. Senta ancora Buso. Fermato a sua volta. Ma prosegue l'azione del Napoli con Pecchia. Bogossian. Poi ha provato Agostini. Fermato. Nuovamente il francese Bogossian intuisce il suo lancio. Bomber riparte. Il Lintracht riesce con la punta del piede a sfiorare il pallone. Cannavaro esce. Poi taglia la tela sul quale affonda il tentativo Yeboah. Ma osservate, c'è Cannavaro che tocca sicuramente con un piede. Esce, taglia la tela. Pallone viscido che gli sfugge. Viene recuperato. Correttamente l'arbitro pull comunque non ha valutato volontario il passaggio all'indietro di Cannavaro. E non ha sanzionato l'uscita con le mani di taglia la tela. Sugli sviluppi dell'azione c'è ora un calcio d'angolo per il Napoli dalla parte opposta. Testimonianza del fatto che la gara risulta molto vivace con ripetuti i capovolgimenti di fronte. E Benito Carbone che va a effettuare il tiro dalla bandierina. Parabola troppo bassa. Esiste comunque il Napoli con Tecchia. Verso Agostini. Carbone. E fuorigioco di Buso. Rivediamo. Abbiamo intuito che la posizione regolare probabilmente non era di Buso. Mentre Gaudino al centro campo smista su Yeboa. Ancora Gaudino. Ococcia. Colpo di tacco per Gaudino. Un dribbling. Palla sul destro. E quindi conclusione che termina a fondo campo. Ma azione molto ben congegnata da parte del Eintracht. Pregevole soprattutto il colpo di tacco con il quale Ococcia ha rimesso in movimento Gaudino che dopo un dribbling con il sinistro ha battuto con il destro alzando però la mira. Probabilmente c'è stata anche una deviazione non vista all'inizio ma è attenta la terna arbitrale. C'è angolo infatti per l'Eintracht. Battuto come vedete il colpo di testa di Komlienovic. Il difensore esterno destro dell'Eintracht. giocatore di origine slava ma naturalizzato tedesco. Eccolo ancora in azione. Gaudino sta giocando molto bene. Bomber prova il sinistro. È un tiro dalla lunga distanza insidioso perché teso a pelo d'erba. C'è da ricordare che il fondo del terreno è bagnato per l'acquazione che si è scatenato poco prima del inizio della partita è piovuto a tratti anche in questo primo tempo mentre Carbone viene intercettato dai poterosi difensori tedeschi. Ed ecco il lancio a favore di Yeboa. Serie rifinte. Ne frena lo slancio Cannavaro poi le tocco all'indietro e per Legat da questi a Ococia che è un dribblatore fortissimo. Guardate che si fa spazio e poi al momento della conclusione viene intercettato ancora da Cannavaro in calcio d'angolo. Ricordo di averlo visto e ammirato proprio con la maglia della Nigeria per le sue grandissime capacità di dribblatore. È un po' un mangiapallone come può dirti ma effettivamente riesce stesso a mettere in crisi le difese avversarie. Intanto c'è Legat che effettua questo traversone e il colpo di testa poi sul fondo del temibile Yeboa. E va anche a lamentarsi per essere stato disturbato però Poole mette tutti d'accordo comandando il calcio di punizione a favore del Napoli. Stolito lungo lancio di sinistro di Kruz. Weber disturbato da Agostini. Gioco ancora fermo. Ora comanda la calma Poole. Siamo vicini alla mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo qui al Valstadion di Francoforte sul Neno in Germania. Il risultato tra Eintracht e Napoli è di 0 a 0. Partita gradevole. Gaudino ancora. Viene fermato. Nuovamente entra in attesa di palla. Gaudino prova a sinistro. Non ci sono problemi per Taglia la tela. Trasparente comunque l'entusiasmo, la grinta, la volontà che ci mette Gaudino in questa partita. Come già ha avuto modo di sottolineare i suoi rapporti personali con Iupain che non sono dei migliori. Ma naturalmente il fatto di giocare contro una squadra italiana e in particolare contro il Napoli è per Gaudino una occasione particolarmente stimolante. Si avanza intanto Weber sulla sinistra e Pogostian che lo disturba. Riesce a effettuare il traversone Weber. Attenzione, il pallone controllato da Yeboa che è tentato di darlo a Binz, il quale però è stato anticipato a Eko Ococia. E ancora su di lui l'intervento di Pari in fallo laterale. Sta facendosi ora massiccia la pressione offensiva dell'entrante di Francoforte. Palla affidata a Cruz. Ora un sinistro. Molto allungate ora le due squadre. Vedete che il disimpegno del Eintracht non è dei migliori. Tanto è vero che Tim Devalde che vedete è inquadrato e costretto il fallo laterale. La rimessa è di Buso. È effettuata a favore di Bogostian. Da questi a pecchi all'esterno a cercare Carbone. Il triangolo tra i due. Fermato Carbone. Riparte il Francoforte. Ancora con Komlienovic. Ococia. Ococia a largo a cercare l'inserimento di Komlienovic. Il suo tocco a favore di Bomber. Parte il traversone verso Gaudino. Tocca per un attimo Buso. Poi Yeboa senza il tiro. Non lo molla un attimo l'ottimo Cannavaro che lo ferma e va a rilancio. Ma ancora a Legat per il Francoforte. Quindi il tentativo di Bogostian. L'azione prosegue ed è Bomber che mette fuori perché un compagno è rimasto a terra. Mentre qui vediamo che nella precedente azione probabilmente c'è stato un fallo di mano di Buso valutato involontario. Anche perché in effetti il pallone era sboccato improvvisamente. Intanto si è rialzato il giocatore che era rimasto infortunato. In questo scontro si trattava di Dick Tauta. Eccolo, propriamente inquadrato. Dalle telecamere della televisione tedesca. Napoli che ha restituito il pallone a Leinfranc. Pindevalde. Legat. Buono il suggerimento per Weber. Incrocia ancora con Legat. Con Verze e Weber. Cerca Ococia il suo tocco. Poi ancora Ococia che rientra in possesso di palla. Vedete le sue finte. Poi il suggerimento sbagliato. Carbone. Bocostiano. Pecchia. Tarantino. Entra la verticalizzazione. Va poi a disturbare l'avversario. La palla è ancora del Napoli con Pecchia. Cerca una soluzione con il passaggio all'indietro. Per Pari. Da questi a Bocostiano. Tarantino. Pecchia. Agostini. Carbone. Finta. Poi suggerimento buono per questo traversone sul quale va a chiudere Pins. Ma il Napoli è convincente quando abbossa l'azione di rimessa. Ora deve stare attento al contropiede. Da quest'altra parte si è liberato Legat. Allunga la falcata Legat. Palla sul sinistro. La finita. Il destro. Ribattuto. Poi ancora con grande caparbietà. Il pallone viene conquistato da Bordin che viene atterrato ma c'è un intervento dell'arbitro Pull che comanda il calcio di punizione. Gara molto intensa caratterizzata da cambiamenti di fronte repentini. Il Napoli quando entra in potenza di palla in difesa trova sistematicamente a saltare il centrocampo per trovare impreparata la retroguardia dell'eintrack di Francoforte e giovarsi dei guizzi di carbone e del senso del gol di Agostino. Tanto c'è stato un anticipo ancora di Pari con una palla in pallo laterale per la rimessa di Legat. O Cocha. Rimessa ma per il Napoli. L'ultimo a toccare è stato il nigeriano. Vedete l'inquadratura per Pausto Pari. Pari che naturalmente da quando è arrivato Boscov sulla panchina del Napoli ha trovato spazi e attenzioni. Il tecnico Flavo lo ha avuto alle sue dipendenze con la Sampdoria. Ne ha conservato un ottimo ricordo. In effetti Pari è un giocatore dal senso tattico notevolissimo. E Bordini intanto. Ed ecco Bujadin Boscov inquadrato. Il Cruz questo lungo lancio. Sempre un bel vedere la battuta del brasiliano. E ancora un buon ballone per Buso. E bravissimo nell'arresto. Poi effettua un traversone troppo profondo sul quale il portiere Koepke che vedete inquadrato non ha difficoltà. Siamo giunti al trentaseiesimo del primo tempo e il risultato è fermo sullo 0-0. Intanto conquista un pallone Yeboa. Vedete la sua velocità. Il traversone da quest'altra parte. Gaudino in leggero controtempo. Serie di pinte di Gaudino. Che però non viene mollato da Pecchia. Si libera Gaudino. Palla sul destro. Da Ad Ococia. Ha fermato. Ottima la retroguardia del Napoli. Insiste da quest'altra parte con Legat. L'Eintracht. Bomber. Poi Dicaut che però non ha trovato la combinazione con il compagno. Ed è ancora Tarantino che porta in avanti il pallone. Lo gioca a favore di Carbone. Carbone scaraventa da quest'altra parte cercando Agostini. Anticipato dal colpo di testa di Bindevald. Partita comunque gradevole. Ben giocata dalle due formazioni. Non filtra il pallone. La chiusura è di Buso che chiede e ottiene triangolo. Ancora Buso. con il destro. A cercare Agostini. Buona l'arresto di Agostini sulla marcatura stretta di Bindevald. Lo punta ancora. Lo salta. Palla poi dentro per Carbone. In piena area di rigore. Carbone prova il tiro. C'è deviazione. Calcio d'angolo. Ottima azione per il Napoli. Bravissimo soprattutto Agostini. e poi Carbone. Vedete Agostini che vince un rimpallo. Scatta in profondità Carbone. La sua posizione è regolare. C'è Binz su di lui. Ed è proprio Binz che sfiora il pallone deviandolo in angolo. Ci vediamo ancora da altra angolazione. Questa inquadratura. Con palla terminata in angolo. Bordin ora per il Napoli. Parte il cross. Esce il portiere. Perde il pallone. Pallone Tarantino. Cerca spazio ora per il cross. Scivola sul terreno insidioso. Ma guadagna una rimessa laterale per la chiusura su di lui di Komlienovic. Palla verso Carbone. Gira Carbone ma viene anticipato. Questo lungo rilancio con palla che giunge in zona morta nella metà campo del Napoli. viene recuperata da Pari che la gioca a favore di Kruz il quale allarga su Tarantino. Ci fa vedere riceve Bogossian. Ora il Napoli vedete ha l'opportunità di giocare in disimpegno mellinato rallentando il gioco. Gara quasi inutile sottolinearlo che va interpretata nell'ottica del doppio confronto. Paracarbone. C'è fuori gioco a giudizio del guardaline di destra. Fuori gioco di Tarantino che comunque già è in più di una circostanza e non c'era fuori gioco. Come si è visto che c'è stato l'incrocio di movimenti è scattato in avanti Bindevald al centro area ma in ritardo rispetto al suggerimento. Non c'era fuori gioco. Weber. Diccaut. Ococcia. Weber. Weber. Poi Diccaut. Impienare. Attenzione pericolo. Gaudino mette in mezzo e c'è calcio d'angolo. È stato Kruz con il petto a evitare che il cross di Gambino, rivediamo l'azione, potesse diventare insidioso. Intanto il corner è stato battuto con tanta sollecitudine che la regia tedesca ne ha perso l'esecuzione. Comunque taglia la tela, ha bloccato e qui rivediamo Kruz che ha messo in angolo. Legato. 40 i minuti di gioco nel corso del primo tempo. 0 a 0 il risultato tra Eintracht e Napoli. Napoli che come sicuramente saprete sta attraversando una serie di vicistudine societarie che sembrano non avere mai fine. Attenzione però a questa ennesima azione del Francoforte. Il colpo di testa di Yeboah. La parata di taglia la tela. Ho qui accanto a me il collega Salvatore Piazzo con il quale magari durante l'intervallo se avremo un po' di tempo cercheremo di fare il punto sulla situazione societaria del Napoli. Tra l'altro sembra quasi un destino. Ogni volta che il Napoli va a giocare in trasferta qualche gara di Coppa gli capita addosso qualche tegola. Ma il Napoli però sta giocando molto bene questa partita e Buso ora in azione parte in suo cross. Ancora una deviazione da parte di Pintz con conseguente calcio d'angolo. Primo piano per Buso. Un giocatore che ha vissuto una parabola tecnico-tattica particolare. nato come punta pura, poi ha progressivamente arretrato il raggio della propria azione. Ora è un centrocampista di riferimento. Ma è sicuramente un elemento sul quale Bosco può far conto mentre vedete gli occhi spiritati di Jupp Einckes. Carbone dalla bandierina. Parabola alta stavolta. Dalla sfiorata di testa da Tarantino. Ancora il Napoli in azione. Ed è Buso che va alla conclusione con questo gran tiro dal limite con palla fuori di poco. Ottima esecuzione di Buso. Rivediamo il tiro che termina fuori non di molto. Bello soprattutto perché è scagliato in modo improvviso senza preparazione. cheppe. Dickhout. Ococcia. Poi Cannavaro vedete come lo disturba. Forse in maniera non regolare. Yeboah. Ma è attenta alla retroguardia del Napoli. Ed è Cruz che interviene. Ora, attenzione, c'è cartellino rosso per Cannavaro che è andato a beccarsi la seconda ammunizione. E l'arbitro pull ha visto qualcosa di irregolare. Forse con il gioco lontano. Cannavaro era già stato ammunito in precedenza. E ora, ecco che, rivediamo l'azione. Vediamo di decifrare quello che è successo. Ma è chiaramente qui l'azione non si è sviluppata qui. Qui non c'è stato fallo. E in precedenza Cannavaro, dopo che era stato contrastato duramente da Yeboah, può darsi che abbia avuto qualche gesto di reazione, abbia detto qualcosa di troppo. E vedete che continua a lamentarsi Cannavaro. E certo questa è una perdita molto molto grave per il Napoli. Soprattutto in considerazione del fatto che Cannavaro era riuscito a montare una guardia molto attenta sul temuto Yeboah. Vediamo ora come riuscirà a porre rimedio a questa situazione di chiara emergenza. Boscov e il Napoli non è molto fortunato, davvero. Prova la conclusione intanto legata. Anche domenica scorsa, nel momento cruciale della partita c'è stata l'espulsione di Policano, che poi ha determinato in qualche maniera la vittoria della Fiorentina, mettendo in crisi il dispositivo del Napoli. Falle intanto lanciata in profondità. Siamo all'ultimo minuto del primo tempo. Salvo recupero e Bims, che controlla la situazione per l'Eintracht, ha dato a Bindewald. Da questi a Bikaut, al solito Legat, sulla sinistra. Converge Weber. Parte il suggerimento verso Ococia. Tocco esterno per Gaudino. Da Gaudino a Komlienovic. Quindi Weber. Anzi, Bomber. Ancora Gaudino. Fermato. Yeboah, che vedete, anche quando perde il pallone, si catapulta con tutta la sua potenza fisica sugli avversari. Tanto è Carbone, che con calma dà l'indietro a Tarantino. Poi Bordin, tentativa di lancio in profondità. Chiusura di Weber, che gioca molto centrale ora. Ma il Napoli, vedete, presta ottimamente gli avversari. Ora Buso a centrocampo. Ed ecco il fischio di chiusura del primo tempo dell'arbitro ungherese Poul. E vedete ancora Bordin, che con molta grinta, dopo aver fatto vedere che è il capitano, che quindi può parlare con l'arbitro, va a fare le sue rimostranze al signor Poul. Ora anche Agostini. Agostini invece non deve avvicinarsi all'arbitro, perché rischia grosso. Ed è un vero peccato che il Napoli, dopo aver interpretato con molta gagliardia questo primo tempo, si sia visto privato di uno dei suoi elementi migliori, Cannavaro, che per doppia munizione è stato espulso dall'arbitro ungherese Poul. Ora il secondo tempo sarà naturalmente di grande sofferenza per il Napoli. Durante l'intervallo, dopo una serie di suggerimenti commerciali, avremo l'opportunità di restare in collegamento audio con lo studio di Milano, dove c'è il collega Marco Civoli. Salvatore Biazzo, con il quale è una nota di servizio per lo stesso Civoli, potremo scambiare due chiacchiere sulla situazione societaria del Napoli. Linea allo studio. L'interattaccamento ai colori sociali, i giocatori, certo, stanno dando tutto quello che possono, bisogna anche ricordare che proprio in forza della situazione di bilancio, che era tutt'altro che Florida, il Napoli è stato costretto a sacrificare parecchi giocatori importanti, e ci sono molti giovani in campo che si stanno comportando molto bene, 0-0 dopo il primo tempo qui al Val Stadion, ma Napoli che deve giocare in dieci l'intera ripresa per l'espulsione di Cannavaro. Tra l'arbitro Pulle e le due squadre, sono già da tempo in campo e parte, finalmente, questa ripresa. In possesso di palla, Lienovic, vinto. Ora c'è la marcatura di Tarantino su Ieboa, mentre Cannavaro se la vede, purtroppo, ormai con la doccia, visto che è stato espulso. Ha giocato benissimo Cannavaro sul temuto attaccante dell'Eintracht. Tanto ancora una iniziativa del Napoli, Bogostian che intercetta a centrocampo il suo lancio in probabilità per ottenere i difensori tedesni, ancora Kovlienovic che gioca su Bopner. Il primo minuto del secondo tempo, 0-0. Ecco il buon intervento intanto di Tarantino in copertura, poi Pecchia, ora Bogostian, Kovlienovic. Vince anche il contrasto su Bordin e Kovlienovic imposta dall'altra parte su Legat, parte il cross di quest'ultimo. Buono ancora l'intervento di Tarantino, mentre resta un po' contuso nella precedente giocata Agostini che si rialza, va a strigere la mano all'avversale con cui era entrato in contatto. E il Francoforte porta in avanti questa nuova iniziativa con Weber. Carbone. Ancora su Carbone il tentativo di passaggio di ritorno da parte di Pecchia che ora gioca praticamente da difensore esterno sinistro in copertura su Bopner. Isolatissimo in avanti, naturalmente Agostini visto che lo stesso Carbone è costretto. Intanto c'è questo colpo di testa di Ococcia che finisce sul fondo. vi dicevo che Pecchia è stato costretto ad arretrare ulteriormente il proprio raggio d'azione. Ora gioca in marcatura sul numero 7 Bomber, mentre Tarantino è diventato difensore centrale in marcatura a uomo su Yeboa. e pari. Gioca suo Ococcia. Guizza ora ancora il Napoli in avanti, c'è questo traversone che viene bloccato da Coecche. Era stato Buso, molto bravo anche nel corso del primo tempo, a presentarsi improvvisamente sulla destra. Rivediamo. E proprio con la punta delle dita riesce prima a intercettare e poi a bloccare il portiere Coecche. Gaudino. Bomber. Per i difinti di Bomber che cerca spazio. Va verso il fondo, non lo molla, ottimamente Pecchia. E poi è Bogossian che lancia Agostini. Isolato in avanti, molto bene, Subin-Devald. Lo punta ancora, converge Agostini e poi prova la conclusione da lunghissima distanza. che non ha nessuna difficoltà, ma altro non poteva fare, chiaramente Agostini, che risulta molto isolato in avanti. Napoli costretto a un atteggiamento di ulteriore copertura. Ancora pericolosamente però il lancio su Weber, il terzino sinistro che si era proiettato in profondità e che costringe in calcio d'angolo la retroguardia del Napoli. L'ultimo intervento è di Cruz. Tiro dalla bandierina al terzo minuto della ripresa a favore dell'Eintracht di Francoforte. Parabola insidiosa, mette fuori Bogossian, interviene Dicaut, sempre Dicaut in processo di palla. Poi questo lungo cross sul quale interviene Bogossian e mette in calcio d'angolo. È naturalmente una ripresa che comincia in modo sofferto per la formazione napoletana, ma d'altra parte proprio la tegola capitata sulla testa della squadra di Boscov alla fine del primo tempo con l'espulsione di Cannavaro non può che determinare questa situazione di costante emergenza. Intanto continuano i tre arbitri ungheresi a chiedere la restituzione del pallone da parte dei giovani sospettatori del Napoli. Nulla da fare, bisogna giocare con un altro pallone, è già arrivato in campo e c'è questo nuovo tiro dalla bandierina a favore dell'Eintracht. Parabola stavolta attesa fuori, arriva in corsa per il tiro, ma lo sbaglia Dicaut. Ungherese ha inquadrato l'arbitro, avete visto inquadrato l'arbitro ungherese Poul, come vi ho detto è stato il fischietto che ha diretto la finale di Pasadena tra Italia e Brasile agli ultimi mondiali, arbitro che gode di grande considerazione in campo internazionale. Intanto c'è il colpo di testa di Bindevald, ancora Gaudino su Bommer, da questi a Komlienovic, quindi Bint. avanza Komlienovic. Okoccia. Pari su di lui, Gaudino. Triangolo con lo stesso Okoccia che sguscia via. Sulla destra per Weber, parte il cross, palla fuori, Bommer, ma c'è un intervento dell'arbitro che vede una irregolarità di Komlienovic in piena area di rigore, interrompe il gioco e comanda il calcio di punizione a favore del Napoli. In effetti vedete che Komlienovic si appoggia con un gomito sulla schiena di Bogossian. Kruz, lunghissimo, a cercare Agostini. C'è il colpo di testa di Bindevald, il tocco di Bommer, l'inserimento di Gaudino. Il passaggio per Weber, da questi centralmente ancora Bindevald, che lascia avanzare Bint. Bommer. Dick out. Bommer ancora. In avanti su Komlienovic. Il triangolo. La palla per Okoccia, pasticcia, riparte il Napoli. Carbone, il colpo di tacco, si distende ora la formazione napoletana. Bogossian, Pecchia, pari, avanzatissimo. Bogossian, ultimo tocco di Okoccia, è rimessa laterale. Sono sette minuti di gioco nel corso della ripresa e il risultato è sempre di 0-0 il Napoli in 10 contro 11. Tenta di andare via Carbone, lo ferma, irregolarmente, Weber. Carbone. Cerca Pecchia, non si capiscono i due. Bommer, Bint, Gaudino. Bommer. Può avanzare. Cambia gioco dalla parte opposta. Mettendo in movimento Legaz, ancora Gaudino, centralmente, Ococcia, fa girare la palla ora al line track per aprire dei varchi nella retroguardia del Napoli. È venuto in avanti anche di Kaut, lo vedete, commette pallo. Gioco ancora fermo e calcio di punizione a favore del Napoli. Sono interruzioni che risultano particolarmente gradite perché spezzano il ritmo al line track che consentono di tirare il piatto alla retroguardia del Napoli. Inevitabilmente è sottoposta a una notevole pressione vista l'inferiorità numerica con la quale i napoletani devono esibirsi in questa ripresa. Ennesimo calcio di punizione affidato al sinistro di Cruz che spazza il più lontano possibile. Il colpo di testa da parte di Pindewald. Ma la palla è ancora giocata da Bokossian per il Napoli. Cambia gioco da quest'altra parte ottimamente pescando carbone. Carbone da fuori a Pecchia. Pecchia cerca triangolo c'è una serie di rimpalli alla fine Binz che spazza via ma Bordin ribatte per il Napoli un pallone sul quale però è pronto ancora l'inserimento con Lienovic parte il suo traversone raso terra c'è pericolo attenzione tiro e gol e ha segnato proprio Yeboah lo vedete esultante guizzo di Yeboah al nono del secondo tempo e il line practice Francoforte passa in vantaggio proprio con il suo uomo più temuto Yeboah lo vedete esultante ecco che rivediamo e con Lienovic vedete il suo traversone che coglie un po' contro tempo tutti ma è Gaudino molto bravo che tocca di tacco il pallone carambola sulla caviglia di Pari come un falco è pronto Yeboah a mettere dentro vedete Gaudino di tacco poi Pari Yeboah che forse addirittura viene anticipato d'abuso al momento della conclusione taglia la tela spiora il pallone ma non riesce a trattenerlo e c'è il vantaggio per il Francoforte per l'Eintracht vedete l'esultanza dei due giocatori africani Yeboah e Onkocha ma ho avuto l'impressione che forse addirittura fosse Buso che ha aspettato di anticipare Yeboah mettendo in crisi taglia la tela avanza Bogostiano prova il destro il tiro si spegne a fondo campo siamo al decimo del secondo tempo situazione sloccata a favore dell'Eintracht di Francoforte vedete inquadrato Buso probabilmente si tratta di un autogol e anche questa sembra 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 un destino avverso per il Napoli mentre avete visto che Buso ha fatto il cenno di che c'è una sostituzione è pronto per il Napoli rincontro mentre approfittano tutti di questa pausa in particolare Enkes e i suoi collaboratori per dare delle indicazioni esce Carbone ed entra in campo al suo posto con la maglia numero 16 rincontro eccolo inquadrato il collaboratore ha acquistato come punta pura in realtà dimostrato di essere poco adatto almeno per quelle che sono le caratteristiche del calcio italiano a giocare di punta è stato utilizzato come centrocampista mentre ora sulle ali dell'entusiasmo il Francoforte si propone in avanti di questo inserimento di Giccaus fermato e Cruz che dà a Bordin ecco Rincon che fa stilare il pallone a favore di Bogostian ancora Rincon due avversari lo fermano la palla è per Weber che ora gioca in posizione di difensore centrale Bims avanza Bims tocca largo a Legasse in profondità verso Gaudino Gaudino gioca il pallone centralmente ed è Cruz che disimpegna in bello stile dando poi a Rincon il triangolo verso Buso che difende bene il pallone resiste alla carica di Legasse mantiene ancora il processo della palla sull'attacco di Gaudino poi però viene fermato da Pindevald c'è ancora possibilità di contropiede per il Francoforte e c'è pallo poi di Yeboah vedete questo poderoso attaccante africano che con tutta la sua massa muscolare va sistematicamente ad attaccare gli avversari in possesso di palla tanto di questo lungo lancio di Bordini ben calibrato per Buso va Buso riesce a girare verso il centro e Rincon non aggancia il colpo di testa di Agostini insiste il Napoli con Pecchia va Pecchia attenta l'azione solitaria Binz lo ferma in collaborazione con Legat il sinistro di quest'ultimo attenzione Napoli non deve scoprirsi è Gaudino che prova questo varco e lancio in profondità ancora per Yeboah il suo top l'uscita ritaglia la tela che devia il pallone consente ai compagni di evitare il raddoppio pericolo grossissimo per il Napoli che generosamente si era portato in avanti ma che come ripeto deve stare molto attento a non scoprirsi e qui vediamo il recupero dei difensori del Napoli Yeboah scattato in profondità bravo taglia la tela a smorzare la sua conclusione e poi Tarantino che porta via il pallone Binz Legat Caudino non gioca con precisione il pallone il Napoli prova a venire in avanti ma è ancora L'Eintracht che ha recuperato il processo del pallone si gioca con molto accamimento ci sono anche colpi proibiti e Gaudino che tocca largo a favore di Legat è legato per Binz Binz da quest'altra parte per Komljenovic Komljenovic molto largo a favore di Bonner e c'è Angolo 14 minuti il Napoli è sotto di un gol ora c'è il tiro dalla bandirina affidato al piede di Pogner mette fuori Rincon di Dicao Komljenovic fra Dicao fermato da Cruz a cui ruba però il pallone Ococia lo scaraventa in mezzo c'è il colpo di testa di Gaudino l'uscita di taglia la tela molto tentativa di piede ad atticipare tutti ancora in avanti Francoforte la conclusione che termina fuori di pochissimo di Gaudino tiro improfiso di Gaudino calibrato sul secondo palo quello più l'Occano traiettoria molto insidiosa che si spegne a fondo campo Gaudino 16 minuti della ripresa 1 a 0 il risultato per l'eintrack di Francoforte Napoli chiaramente penalizzato dall'espulsione di Cannavaro mentre Yeboah ora è in azione combina con Deder ancora Yeboah colpo di tacco bello a smarcare Legat va Legat a eseguare questo cross chiude Pecchia poi Komlienovic ora Bobner Sistro ferma Cruz e poi subisce pallo Pecchia Napoli può così spezzare l'assedio 16 minuti del secondo tempo come si prevedeva la ripresa è molto laboriosa per il Napoli che è dovuto ritoccare l'intero apparato tattico portando come marcatore centrale quel Tarantino che invece era stato molto bravo sulla fascia nel corso del primo tempo arretrando Pecchia e chiamando a ulteriore copertura carbone fin quando è rimasto in campo e quindi lasciando inevitabilmente isolato in avanti Agostini ora per il Napoli è riconquista una palla e Rincon che la gioca verso Agostini il quale è costretto ad attendere rinforzi li trova in muso suggerimento profondo verso Bogossian con una deviazione che fa terminare il pallone in calcio d'angolo ma evita che il pallone stesso giungesse al francese il tiro dalla bandierina di Bogossian sotto di testa di Buso palla fuori prova Pecchia virgola sul fondo Bosco in piedi sempre efficace gestualità di Buso di Bosco mentre il portiere dell'intracht di Francoforte effettua questo rinvio palla per Rincon ma Rincon viene fermato da Pint poi Pikao legato Pint Comlienovic Bomber ancora Bomber che ha ricevuto da Ococia quindi Comlienovic Bomber viene in avanti Weber quando muro i difensori del Napoli ora Rincon trova un varco molto bene allunga la sua palcata attenzione al fuorigioco dall'altra parte Agostini sempre Rincon Rincon prova ancora l'azione in profondità isolata esce Kepsk lo blocca applausi comunque buona iniziativa da parte di Rincon vedete che tenta di aggirare l'avversario operazione riuscita ma controllo del pallone leggermente troppo lungo così che Kepsk ha l'opportunità di uscire e anticipare Rincon intanto legata dalla parte opposta qui probabilmente c'è fallo di Ococia non rilevato su Pari Gaudino Yeboah Gaudino buon lavoro di Gaudino Gaudino al limite dell'area di rigore salta un paio di avversari e poi però Cruz che va ad anticiparlo con grande calma e bello stile Cruz disimpegna su Pecchia da questi a Bogostian quindi Bordin ancora Pecchia con il destro e c'è Bogostian in gioco pericoloso ma si prosegue per la norma del vantaggio Pomer verso il fondo Cruz in angolo era stato un intervento a gamba tesa al centro campo da parte di Bogostian ma l'arbitro Poole non è intervenuto perché l'azione si stava sviluppando in maniera pericolosa per il line track di Franco Forte tanto è vero che poi Pomer ha conquistato questo tiro d'angolo che sta per essere battuto dalle gaffe mentre abbiamo visto che dal primo piano di taglia la tela a fare la parabola esce taglia la tela viene anticipato da Cruz Pindewald Pind Legaz tutto spostato da quest'altra parte fa fissare il pallone a favore di Pogner da questi a Pindewald e indietro ancora Pind Legaz Napoli tutto raccolto nella propria metà campo pick out Komljenovic quando è uscito dal terreno di gioco a carbone con Mljenovic ha l'opportunità di proporsi pericolosamente in avanti c'è ancora una buona copertura difensiva del Napoli la palla in pallo laterale per la rimessa dell'eintracht effettuata da Dikaut ancora Dikaut combina ripetutamente con Bommer Dikaut in posizione alla destra da fuori ancora per lo stesso Bommer che centralmente disimpegna a favore di Legaz che è un buon tiratore finita in sinistro poi dà nuovamente a Dikaut in mezzo Frutz poi il colpo di testa di Bogostian ora è un assedio il Napoli deve stringere i denti per tentare di uscire con il minimo danno da questa non fortunata serata e c'è il fuori e c'è il fuori gioco a carico di Okosha rivediamo e non c'era non c'era posizione di fuori gioco avete visto che nel momento in cui è partito il lancio il giocatore di colore era tenuto in gioco era quanto meno in linea le valutazioni delle terne arbitrali sono sempre molto difficili Frutz verso Rincón ma tutto di testa da Weber poi il pallone su Yeboah che coglie in contrattempo lo stesso Weber la palla è fuori la lascia sfilare Buso riceve il passaggio di ritorno di Bordin combinano i due palla nuovamente fuori ma probabile calcio di punizione a favore del Napoli un Napoli che aveva dato l'impressione di aver messo la museruola all'ailtruck di Francoforte e in particolare proprio a Yeboah l'uomo più tenuto nelle file dei tedeschi grazie alla grande prestazione in marcatura di Cannavaro ma proprio Cannavaro è incappato in una doppia munizione con conseguente espulsione alla fine del primo tempo e ciò ha reso molto più difficoltoso il compito della formazione napoletana che ha tenuto a botto fino al nono della ripresa quando Yeboah arrivando contemporaneamente a Busa su un pallone è riuscito a mettere dentro il gol con il quale l'ailtruck sta conducendo per 1-0 Di Kaut lunghissimo il passaggio all'indietro a favore di Pindevald che ora si sgancia in combinazione con Komljenovic ancora Pindevald Komljenovic Di Kaut e poi Gaudino di Kaut a Rincon lunghissimo lancio a pescare Agostini e Agostini ha un buon controllo ma era molto difficile si allunga leggermente il pallone consentendo a Pindevald il recupero lo stesso Pindevald ha dato al portiere da questi a Weber quindi a Bins centralmente a Di Kaut ed ecco il solito Komljenovic Pindevald Gaudino ha giocato molto bene stasera dentro un pallone per lo scatto ancora di Yeboah poi c'è il traversone da quest'altra parte la presa aerea di Taglia Latte i minuti di gioco sono intanto 25 nel corso della ripresa e il risultato è di 1-0 a favore dell'Aintracht di Francoforte che ha sbloccato la situazione al nono del secondo tempo con un gol di Yeboah potremmo dire in collaborazione con Buso intanto Pindevald conquista un pallone al centrocampo ma lo tocca anche con un braccio e così che l'arbitro ungherese Full comanda il calcio di punizione a favore della formazione napoletana il capitano Bozic sanzionato l'intervento a gamba tesa di Pinde si fa sentire scusate cruz allenare Bogostian Agostini Bogostian tenta di girare respinta la sua conclusione poi c'è questo strano colpo di testa lì indietro si prosegue serie di rimpalli Rincon non va con la necessaria determinazione sul pallone così che la intratta riparte ora di gran volata in contropiede con Bommer fa la girata dalla parte opposta per Legat contro Traversone Ococia Bommer Bommer converge palla su sinistro gaudino gaudino il tiro sul fondo un vero peccato che il Napoli abbia dovuto subire l'imperiorità numerica una volta ancora la domenica scorsa come ricordato c'era stata l'espulsione di Policano nel momento cruciale della partita perché nel corso del primo tempo il Napoli pur giocando gara di contenimento aveva imbrigliato molto bene l'entrata di Francoforte e in più di una circostanza si era reso pericoloso con azione di rimesso ora è costretto a subire la massiccia pressione offensiva dei tedeschi e l'arbitro sta prendendo le misure intanto a questo Yeboac un giocatore sì molto incisivo ma che si aiuta troppo spesso in questo caso l'inquadratura era su Okoccia ma il pallo è stato fischiato su Yeboa Fommer eccolo Okoccia Fomlienovic Okoccia fermato da Bogoccia scatta Rincon fa in tempo a chiudere Weber legato Fommer Fommer è un buon tiratore fa filtrare questo pallone per Gaudino che tocca con la punta del piede attentissimo taglia la tela blocca molto bravo il portiere del Napoli Gaudino comunque continua a giocare con straordinaria generosità Dick out Yeboa è fermato questa volta forse in gioco pericoloso torna vedete secondo consuetudine su Bogossian poi Rincon si avventura in un dribbling inopportuno è fermato da Weber che tocca all'indietro a Legat Legat da respiro la manovra dell'Eintracht mettendo in movimento centralmente Bomber che ha dato a Komlienovic da questi a Ococia ancora Bomber tenta di giocare molto largo il line track proprio per aprire varchi Komlienovic chiuso ottimamente da Tarantino Gaudino Bogossian Agostini deve vedersela ora con Bindevald serie di finte senta il dribbling lo ferma implacabilmente Bindevald viene in avanti fermato a sua volta da Bogossian poi Agostini ora Bomber Gaudino Gaudino gode di grande libertà a centrocampo vedete che taglia il campo a grandi falcate entra su di lui Borde in termine a Tarragaudino punti che realtà la remessa di Komlienovic a favore di Bindevald da questi a Diccaut largo per legate che ha giocato molto arretrato da quando il Napoli è rimasto in 10-14 consentendo a Weber di portarsi in avanti Komlienovic Bomber incrocio tra i due alla offerta centralmente a Bims il difensore centrale guadagna spazio Bims va dentro chiede triangolo Bims pericolosamente esterno della rete grande azione di Bims che ha chiesto triangolo a Yeboah un giocatore interessantissimo questo Bims vedete triangolo a Yeboah Bims controlla un po' troppo lungo è costretto ad allungare la falcata e poi batte sul fondo e ora c'è sostituzione entra Purtok al posto di Ococia entra il polacco Purtok al posto di JJ Ococia ecco Purtok è un polacco Cruz da fondo campo mentre siamo al trentunesimo del secondo tempo sempre sui risultati di 1-0 a favore della Intrack di Francoforte la rovesciata di Agostini va alla caccia del pallone Rincon lo batte in acrobazia Weber ma sulla palla Buso la difende costringe al pallo l'avversario gioco fermo e punizione per il Napoli lo stesso Buso che si incarica di battere il calcio di punizione lo vedete inquadrato palla tesa ribattuta da Pins poi Cruzzo che svirgola un po' e comunque ben piazzato Tarantino che sbaglia a sua volta il rilancio bomber compagna lo vedete costantemente sulla destra con Lienovic poi Gaudino converge Gaudino palla per Weber Legat ancora Weber in posizione di ala sinistra traversone immediato molto lungo e pericoloso sbroglia comunque la situazione ancora della retroguardia del Napoli e Bommer che riconquista il pallone lo gioca a favore di Bindevalde il quale lo allarga su Legat Legat da quest'altra parte al giocatore Tom Lienovic da questi a Bommer quindi c'è questa iniziativa di Legat largo per Wider gioca centralmente il nuovo entrato Fortoc ancora Kom Lienovic Bommer Kom Lienovic Bommer posizione regolare dice il guardaline traversone insidioso palla fuori e stavolta si c'è il fuorigioco c'è il fuorigioco di Bommer segnalato dal guardaline siamo al trentatresimo del secondo tempo il Napoli è sempre sotto di un gol al Valde Stadium di Francoforte l'inquadratura per l'arbitro ungherese Poul naturalmente il Napoli non ha gradito l'espulsione per doppia munizione di Cannavaro venirebbe però essere in grado di valutare cos'è successo è possibile che ci sia stato un fallo di reazione lontano dal pallone di Cannavaro su Yeboau una sua protesta fatta stacca Cannavaro che era già stato ammonito si è beccato il secondo Cattellino giallo e poi quello rosso palla ora per Bommer parte il cross attenzione arriva benissimo a chiudere Tarantino Weber poi Legat ora Rincon per il Napoli Rincon resiste la carica disimpegna poi su Pecchia gara di grande sacrificio per tutti i giocatori del Napoli Pecchia in becca bene da quest'altra parte Bogosian che fa filtrare il pallone nel vano tentativo di trovare in quella zona del campo un compagno riparte ancora Weber lo ferma Bording la palla però è per Bommer va Bommer a proporre questo lungo attraversione verso Furtok si aiuta io regolarmente nei confronti di Paris inducendo Pulla a concedere il calcio di punizione a favore del Napoli dieci minuti al novantesimo gara di grande sofferenza per i giocatori napoletani nel corso del secondo tempo il risultato di uno a zero a favore del line track di Francoforte c'è ora un'azione irregolare di Agostini avete dieci al termine Omlienovic Bommer Gaudino Diccao Binderald Bommer dentro posizione regolare attenzione fermato ancora Yeboah che è bravissimo a smarcarsi ma è stato altrettanto bravo Tarantino a chiuderlo vedete la posizione effettivamente è regolare non c'è fuori gioco Yeboah da distanza ravvicinata tenta di rimettere verso il centro dell'area Tarantino poi lo chiude provare l'ultimo tocco sia stato poi del giocatore africano perché come vedete si riprende con un rinvio da fondo campo palla scravventata direttamente in palla laterale la rimessa è di Bommer eccolo ancora Yeboah in azione colpo di tacco Bogostian triangolo molto bello con Agostini poi Rincon Rincon coglie in controtempo Bordin che però può recuperare dare all'indietro abuso che opportunamente era andato a coprire la palla ora è per Rincon va al dribbling un giocatore dotato di buon palleggio naturalmente ora si tratta anche di mantenere per il Napoli il possesso di palla operazione però che non è agevole e il lungo rilancio trova pronto Furtok che però viene immediatamente bloccato in fallo laterale legato pin Komljenovic bomber qualità manovra avvolgente Komljenovic pallonetto verso Furtok si spingono Furtok si prosegue poi è stato Rincon che ha dato ad Agostini va Agostini a calibrare un suggerimento verso Rincon la chiusura di Weber che però stanchissimo ha forse come un dannato nella ripresa controlla male e mette il fallo laterale viene per la rimessa Buso ripetuto in quadratura e sull'arbitro Sandor Pull la partita è stata molto intensa ma tutto sommato non cattiva Rincon Buso mantiene il possesso del pallone tenta di farlo filtrare per Rincon operazione non riuscita e si sgancia il difensore centrale Bindevald si ferma da Bommer larghissimo per Legat quale può operare questo cross che però risulta inoffensivo spegnendosi direttamente a fondo campo e avete visto il portiere Koepp che eccolo ancora inquadrato che con ampi gesti ha manifestato la propria disapprovazione al compagno che ha sciupato una possibile opportunità scaricando il suo traversone direttamente a fondo campo intanto c'è lo vedete prontamente inquadrato dalle camere tedesche un giocatore dell'eintracht a bordo campo si tratta di Dickhout che è rimasto evidentemente infortunato il colpo di testa è di Rincon Legat lo disturba Agostini rimessa a favore di Bindevalda con Lienovic ha avuto grande libertà d'azione con Lienovic converge bomber con il sinistro prova un tiro e non è che faccia una gran figura intanto ecco ancora a bordo campo il giocatore Dickhout ed è pronta la nuova sostituzione esce Dickhout ed entra con la maglia numero 14 Falkenmaier siamo al quarantesimo del secondo tempo risultato è sempre di 1 a 0 palla verso Agostini che si impegna ma non può controllarla fare un po' stanco anche l'Eintracht è stata una gara dispendiosa anche per i giocatori tedeschi che hanno attaccato praticamente in continuazione soprattutto in questo secondo tempo bomber ora in azione Kamlienovic Kurto anzi Falkenmaier Weber parte il cross c'è ancora Bordin che mette in calcio d'ancora 41 minuti di gioco nel corso del secondo tempo entra di Francoforte 1 Napoli 0 quadratura per Bogostian accanto a lui con Lienovic ennesimo calcio d'angolo per l'Eintracht di Francoforte parabola passa passa via Bogostian direttamente in fallo laterale arriva per la rimessa Legat Falkenmaier Legat cerca spazio per il traversone la gioca invece all'indietro Pimp Weber troppo lungo il passaggio per Legat e appare abbastanza evidente la stanchezza la stanchezza dei giocatori dell'Eintracht alla pari di quelli del del Napoli ancora prova Falkenmaier fermato da Puso suggerimento profondo verso Agostini anche gli protagonista di una prova generosissima Falkenmaier Bomber Falkenmaier Gaudino rinvio Agostini va al tentativo uno contro uno con Pinderald che lo ferma e dà a Pint da questi largo per Legat converge Legat prova il sinistro ancora una volta il tiro è nettamente stagliato la gara si è venuta spegnendo perché come rispettutamente accennato a parte i giocatori del Napoli che hanno sopportato un carico di lavoro notevolissimo anche il line track di Francoforte si è venuto a trovare in debito d'ossigeno e di energie muscolare in questa fase finale intanto c'è una nuova sostituzione del Napoli esce Buso entra in campo con la maglia numero 15 Policano tutto questo quando manca un minuto e mezzo al novantesimo il rinvio di Kruz la palla sfiorata di testa da Rincon giocata ora da Bims viene Bims a offrire il pallone in profondità ai compagni Falkenmaier bomber da questi a Komlienovic ancora Falkenmaier Gaudino esterno fermato da Rincon entra in potenza di palla nuovamente Gaudino da Komlienovic avanzatissimo ed è providenziale questo intervento da parte di Tarantino poi c'è la conclusione con l'esterno sinistro di Falkenmaier sul fondo ma è stato bravissimo Tarantino a intercettare il lancio profondo il rinvio di fondo campo da parte di Cruz tocca Rincon Pindewald da quest'altra parte il colpo di testa di Pecchia quindi Falkenmaier e il pallone è offerto ad Agostini va Agostini a conquistarsi un pallone intervento energico su di lui ma giudicato corretto intanto siamo vicinissimi al novantesimo anzi c'è già recupero e l'arbitro in pratica vedete con soli dieci secondi di recupero manda le sue squadre negli spogliatoi il Napoli dunque perde per 1 a 0 al Val Stadion di Franco Forte con line track ma è un risultato che può essere considerato accettabile anche soprattutto in considerazione del fatto che può essere ribaltato nella partita di ritorno intanto vedete Renato Buso Bruno che è stato dal collega tedesco dimmi Marco possiamo rivedere qui dallo studio quella che è stata poi l'autorete di Buso al nono minuto perché penso che di autorete si tratta tra qualche istante la vedremo puoi continuare a parlare i telespettatori penso che si ritroveranno fra qualche istante il replay si in effetti è stato un episodio anche abbastanza sfortunato quello che ha determinato il gol di vantaggio dell'entrata di Francoforte l'azione era stata ben congeniata una volta ancora si era liberato Ieboa per la conclusione è stato anticipato da Buso il quale Buso per la verità forse ha toccato per ultimo e quindi potremmo registrare una volta ancora un autogol a carico del Napoli dopo i due di domenica scorsa quindi prestazione sicuramente non fortunata della formazione napoletana che ha dovuto giocare in dieci l'intera ripresa per l'espulsione di Cannavaro che in precedenza aveva marcato benissimo Ieboa ma Napoli che comunque ha giocato una gara molto giudiziosa di contenimento con grande spirito di sacrificio ed è riuscita a lasciare il Valde Stadium con il risultato negativo di un gol a zero risultato che a mio modo di vedere come vi ripeto può essere ribaltato nella gara di ritorno un Napoli che una volta ancora ha dimostrato grande determinazione agonistica buona preparazione fisico-atletica e anche una disposizione tattica che nel corso del primo tempo era apparsa molto indovinata tanto che il Napoli nella prima frazione di gara pur subendo la maggior Grazie a tutti.